Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno. Oggi vi parlo di Honda XL600 LM del 1985 perché siamo ormai prossimi vicini alla partenza della Dakar per il 2024, infatti il Rally Dakar 2024 sarà la 46esima edizione della Rally Dakar, si svolgerà per la quinta volta in Arabia Saudita. La gara comincerà il 6 gennaio 2024 per terminare il 19 gennaio ed è divisa in 13 tappe, sarà valida come prima prova del campionato mondiale di Rally Raid per il 2024. Quindi, prima che inizi la gara, mi piaceva ricordare le moto più prestigiose che hanno partecipato alla mitica Parigi Dakar degli anni 80 e 90, o comunque di moto che dalle moto da corsa sono state derivate per l'utilizzo stradale. Vediamo quindi quali sono le moto di quel periodo ormai mitico. Partiamo oggi appunto presentando la Honda XL650 LM, una delle moto più iconiche del segmento dell'enduro. Prendeva le mosse dalla XL600R che venne prodotta dall'85 al 90, apportando l'indispensabile plus dell'avviamento elettrico. Quindi vediamo la moto in questa immagine che la rappresenta. Il motore è un monocilindico raffreddato ad aria da 44 cavalli e 6.000 giri al minuto, che fu anche trasferito poi con qualche aggiornamento sulla sua rete, la NX650 Dominator, dall'indola ancora più stradale. Cavalcando l'onda dei grandi ride desertici, Honda introdusse anche con il modello, nel modello più alta cilindrata, un serbatoio di grande capienza. Infatti si vede anche dall'immagine come il serbatoio abbia appunto una capienza di ben 28 litri, di cui 6 di riserva. Prendendo una linea introdotta dalla stessa casa con la XL500R Paris-Dakar per la prima volta nel 1982 e successivamente ripresa da molte case quali la Yamaha che produsse la celebre XT600 TNR. Altra importante novità fu l'introduzione dell'avviamento elettrico che affiancò così l'ancora presente Kickstarter, cioè la leva d'avviamento. Caratteristica che unita al grande serbatoio dalla presenza dei nuovi cerchi tubeless ne fece uno dei mezzi preferiti ai riviaggiatori di tutto il mondo. Caratteristico motore di 591 cm3 rivisto nella tecnica era lo stesso usato sulla XR600R, la versione con il motore colorato di rosso del 1985, mentre dall'anno successivo viene proposto il colore nero e il rosso perché il rosso viene utilizzato sulla XL600RM. Entrambi coperti del carter motore diventarono in magnesio per evitare l'aumento di peso dovuto al differente serbatoio. L'avviamento elettrico e venne eliminato il cavo di rinvio del coperchio valvole al contagiri. Il peso secco della moto è di 255 kg. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi ben precisi. Primo è gratis, non ti costa assolutamente nulla. Secondo faccio un video al giorno e quindi sei sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.